Tu sei fedele o polifedele? Allora, che differenza c'è tra l'essere fedele e l'essere polifedele? Beh, diciamo, il termine polifedele sono quelle coppie che, diciamo, sono fedeli, ma non a una persona, a due persone. Fondamentalmente al marito e a un amante stabile, che è diventato, diciamo, una parte fissa all'interno della coppia, fondamentalmente. La polifedeltà è una forma di poliamore, se vogliamo, però con delle differenze, nel senso che si è fedeli. E' diversa dalla poligamia, perché la persona non è monogama, ma non è neanche poligama, perché comunque è fedele. Poi, solitamente, magari, il tipo di fedeltà viene mantenuta soprattutto nei confronti dell'amante, se vogliamo, perché il marito di fatto viene tradito, ma non viene tradito con tutti, viene tradito soltanto con una persona, una persona in particolare. Poi, potrebbe essere che il marito o la moglie, in questo caso, sappiano dell'esistenza di quest'amante stabile, oppure no, e questa è un po' la differenza, fondamentalmente. Però, ve ne sono molte di queste situazioni, in cui, se hanno fedeltà magari diverse, verso l'amante si garantisce una fedeltà di natura sessuale, verso il marito o la moglie si garantisce una fedeltà magari non sessuale, perché ovviamente si tradisce con l'altra persona, ma una fedeltà negata al mutuo aiuto, all'aiuto reciproco, qualora ci possano essere dei problemi. Ecco, questa è una tipologia di relazione che sembra poco diffusa, ma in realtà lo è abbastanza. E tra l'altro ci può essere anche della gelosia da parte dell'amante, non tanto nei confronti del marito o della moglie, che vengono tranquillamente tollerati, ma nei confronti di altre persone. L'amore, diciamo, è un qualcosa di strano che non ha, diciamo, regole, se vogliamo. Tu cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, lascia un commento e esprimi il tuo giudizio. Intanto seguimi anche su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, ovviamente su TikTok, su YouTube, su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Liberty dei Narcisisti con Massimo Terramasco. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!